Con il 76,2% dei consensi è Luciano D'Alfonso in quota PD il vincitore delle primarie del centro-sinistra per il candidato presidente alla regione. I due sfidanti Franco Caramanico di Selle e Alfonso Mascitelli dell'Italia dei Valori hanno riportato rispettivamente il 13,6% e il 10,2%. Al voto hanno partecipato 42.293 elettori. Risultato scontato tanto che il centro-destra ha parlato di primarie farsa. Dal centro-sinistra invece si leva la voce di rifondazione comunista che ha bollato le primarie come un flop del Partito Democratico. A dicembre scorso per eleggere il segretario nazionale gli elettori furono lo stesso numero ma solo del PD. Comincia il secondo tempo di questa mobilitazione democratica e lo useremo per entrare nel dettaglio dell'impostazione programmatica detto da Alfonso pienamente calato nel suo ruolo. Il giorno del voto si saprà chi e che cosa si vota e perché. Questo è un risultato significativo poiché oltre 40.000 persone che vanno a votare per scegliere la classe dirigente regionalista è un punto definitivo di lavoro sul quale noi costruiremo un'ulteriore pagina di mobilitazione. Ho contattato qualcosa come 10.000 chilometri di democrazia riempiendo 100 pagine di appunti, trovando 100 candidabilità possibili per le liste civiche. Siamo pronti non solo per vincere le elezioni ma soprattutto per governare bene nei 1800 giorni che ci saranno. D'Alfonso ha anche affrontato la questione morale ricordando che nei suoi confronti sono arrivate fino ad oggi 53 assoluzioni e dichiarandosi certo che il suo operato sarà validato anche dagli ulteriori gradi di giudizio. Polemica ancora rifondazione comunista che ricorda come un eventuale condanna in appello di D'Alfonso riporterebbe al voto la regione dopo pochi mesi. Per questo dichiarano Acerbo e Fars, il risultato delle primarie non modifica il nostro giudizio sull'inopportunità della candidatura di Luciano D'Alfonso alla presidenza della regione Abruzzo, semmai lo rafforza. È vero che le responsabilità penali sono personali e vanno accertate in sede giudiziaria, aggiungono i due esponenti del partito, ma è invece collettiva la responsabilità politica del centro-sinistra abruzzese per la sua ormai storica indifferenza verso la questione morale che viene confermata anche da questa vicenda. Il cambiamento in Abruzzo non può certo essere rappresentato dalla candidatura di D'Alfonso. Intanto ad oggi Luciano D'Alfonso non conosce chi sarà il suo avversario del centro-destra. In settimana dovrebbe essere il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ad ufficializzare o meno la ricandidatura del governatore uscente Gianni Chiodi. Non sono escluse sorprese.